Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai C-A-S-M-R Profale Oggi, come detto dal titolo, finalmente di nuovo leggiamo il catalogo deluxe Magico Natale del Lidl Giustamente a novembre, mi sembra il minimo Allora, questo lo vedrai dopo la data dell'offerta, ma ormai non c'è più, non esiste più data dell'offerta Perché io ho visto queste cose qua molto prima del 4 novembre Quindi è probabile che tu queste cose le avessi trovato prima o le troverai dopo Quindi non c'è più data, non c'è più scadenza Il tavolo è un'illusione, l'ora di pranzo, una doppia illusione, eccitazione Allora Sì qua sono lanciati dopo Halloween, sì in realtà Hanno dato che a Lidl, molto prima di Halloween, avevano già messo delle cose di Natale Tipo Pandori e i vari biscotti speziati, quelle cose lì Molto prima di Halloween, ma non ho neanche aspettato che passasse Allora, ho preso ben due cataloghi, uno lo guardiamo in un altro video E poi all'interno c'era anche gastronomia di qualità dentro questo qui Andiamo a vederlo subito perché è una mini pagina Allora, c'è gastronomia di qualità Viene a scoprire le nostre basche aperte È vero, hanno messo queste adesso Da noi, sono sveglia, hanno messo da tutti Allora Milanese di pollo con patate a 2,25 euro Che è la cotoletta milanese, immagino Suppa e cereali con orso e farro Senza conservanti aggiunti A 1,79 euro Questa fa voglia Poi Sugo al salmone e camberi, wow 1,25 euro Filetti di alici marinate 2,25 euro Questo fa voglia Bocconcini di polpo 3,49 euro Al nostro pesce Salmone affumicato norvegese 3,30 euro Questo me lo compro perché è un buon prezzo Insalata ogni tanto me lo prendo Il salmone affumicato è buonissimo Insalata di mare con verdure 4,99 euro Sono 550 grammi Filetti di alici con peperoncino 2,49 euro Carpaccio di tonno marinato 3,69 euro Ogni tanto secondo me bisogna spendergli questi soldini per del pesce Magari se è fresco è meglio però Non si può Filetti di alici con cipolla rosa Mio dio 2,49 euro Cacciucco La livornese A me piace un sacco di cacciucco Cosse alla marinara Però bisogna vedere se questi piatti qua sono buoni Non li ho mai visti Succo allo scollo 3,59 euro 1,69 euro Antiposti di mare Ha scelto fra diverse varianti A 1,99 euro Bastoncini di surimi 2,49 euro Non mi piacciono tanto queste Purè di patate Già pronto 1,79 euro Vabbè almeno il purè me lo faccio io Non è che ci vuole un diploma per farlo Arrosto di manzo A 2,99 euro Affettato mix Spec Scamorso affumicato Prosciutto crudo Prosciutto crudo E provolone A 1,99 euro Polpette di carne buone Io ho fatto due di ceci l'altra sera Però questo lo vedrai molto dopo Quindi molto tempo Gatto di patate A 2,49 euro E mi lanza nella parmigiana Che buone 2,79 euro Lasagna raccolta 2,99 euro Cannelloni Cotricotte Spinocci 2,49 euro Vabbè ma i broccoli al vapore C'è bisogno di comprarli Già fa Cioè nel senso Non ci vuole un genio a farli Però Broccoli al vapore 1,49 euro Chef Ah no Faciolini al vapore 1,49 euro Finocchi grigliati 1,99 euro Zucca grigliata 1 euro Buona Pasta e fagioli 1,89 euro Questa voglio provarla Minestrone di verdure e legumi 1,99 euro Io adesso sono Siccome sono in fase Ho freddo Mi piace farmi tutte le zuppe Mamma mia Vabbè Ho fatto la crema di zucca A casa Buonissima Senza carote Solo zucca E curry Buonissima Crema di patate e porri E vellutata Di zucca e carote 2,49 euro 1,99 euro Questa Costa meno Perché le patate e porri Costano poco Un piatto Come si può dire Povero Ma ricco di gusto Ok Andiamo qua Deluxe Allora Per dirti Oggi non è il Oggi è il 4 Adesso che ci penso C'è il 4 Però tu stai vedendo dopo Che io i video li faccio tutti A lunedì mattina E mi sto portando avanti E per esempio Questi gnocchi con zucca E amaretto Io li ho già mangiati Perché c'erano già Molto prima del 4 Come ti ho detto all'inizio Quindi Qui non c'è Offerte valide da A No Perché li ho trovati prima Comunque sono buonissimi Del consiglio 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 Io li ho mangiati Semplicemente con del burro Conditi col burro Allora Poi ci sono Porcini Tagliati a cubetti Perfetti per molte ricette A 2 euro e 49 Crema spalmabile Pistacchio Crema spalmabile Alemanderle E oppure Nannaccione 1 euro e 99 E mousse Cioccolato E birre A 0 euro e 99 Qua iniziamo Che mi fa voglia tutto Te lo giuro Mi fa voglia tutto Per Saura Il tartufo Ecco no Scherzavo Non mi viene voglia di tutto Perché il tartufo Non mi piace Comunque Non voglio discriminarlo Quindi andremo a leggerlo stesso 1 euro e 99 Prosciutto cotto Non mi ha mai associato Sinceramente mi fa voglia Cioè sono curiosa Macarons O macarons Non ho ancora capito Come si pronuncia Piccoli dolcetti Della tradizione francese 3 euro e 99 3 euro e 99 Dessert Brownie Questo fa voglia 1 euro e 49 Dessert al limone 1 euro e 49 E Dessert a base di pan di spagna Con crema al limone Con tiramisù A 1 euro e 99 Poi Panserotte ripieni Con porchetta Mozzancolle E aragosta No ma io li voglio Questi me li devo prendere Prenderò ovviamente Quelli con l'aragosta Anche con la porchetta Fanno Anche veramente Mi piacciono tutti e tre Però dai cavolo Visto che ci siamo Prendendo l'aragosta Facciamo I sofisticati A 2 euro e 79 Poi Sformatino di patate Con pomodori e mozzarella A 2 euro e 19 Profiterò Il bianco Buono Non ho mai preso bianco 3 euro e 99 Frutti di cappero All'aceto di vino Non mi piacciono i capperi 0 euro e 99 Filetto di petto Tanatra Di barberia 4 euro e 99 9 euro e 99 Guarda Guarda Succo Funghi e tartufo 2 euro e 99 Patate di cipolla rossa Oh mio dio Lo voglio 1 euro e 49 Patate di funghi porcini 1 euro e 79 De natalizie Ecco se potessi Riprenderei perché C'è anche la scatolina È bellissima C'è una confezione Troppo bella È nera Poi a questi disegni Un po' Vintage Un po' Non lo so Mi piacciono molto E allora C'è arancia Cannella arancia E cranberry Cranberry Che non mi viene mai La traduzione Specialità La frutta Spalmabile A 1 euro e 39 Quindi credo sia Non confetture Bastoncini Con cristalli Di zucchero Ma che carini Inutili Ma carini 1 euro e 99 C'è un po' Di suoni di carta Anche Spero che non Ti danno Ti hanno fastidio A me piacciono Come mi dice I prodotti Deluxe Selezione Cambero Rosso È esclusivo Solo da Lidl Ok Chicco di latte Chicco di latte Prodotto Con latte Vaccino Ovine Caprino 2 euro E 69 Non so cosa sia Questo chicco di latte Sembrerebbe Un formaggio Soufflé Cioccolato Con ripieno Di cioccolato Bianco 1 euro 99 Scusami Sembra Orgasmico Mostarda Di mele Cacottogne 2 euro e 99 Non mi piace Trismigno Di panettoncini Mini panettone Classico Mini panettone Con gocce di cioccolato E mini pandoro 2 euro e 99 Che carino Questo 2 euro e 99 Però il mio preferito È il pandoro Io sono Tim Pandoro Barrette Croccanti 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 Alle nocciole Ricoperte Di cioccolato Al latte Fondente Che belle Che belle Che buone 1 euro e 99 Poi qua c'è Un concorso Non ci interessa Quindi passiamo Oltre Perché a noi piace Vedere il cibo Se guardiamo Solo il cibo Oggi Ovviamente Albero di Natale 3 euro e 99 Li ho già visti Prima di Allung Biscotti Speziati Con mandorle 1 euro e 39 C'è la pancia Che mi prontola Biscotti Speziati 1 euro e 39 Cuori Prezzel Non so Così E stelle Ah Prezzel Ok E stelle Di pan Speziato 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 1 euro e 99 Eh vabbè Io non so leggere questi Dolcetti Al pan pepato Pan pepato Pan pepato A 1 euro e 99 Cuori di pan speziato Pan pepato Pan speziato Che bei nomi Ripini di albicocca Ricoperti con cioccolato fondente 1 euro e 39 Dolcetti al burro Questi sono i miei preferiti Sono questi quelli che prendo Questi qui Sono buoni anche questi al cioccolato Ma questi qui sono la vita E infatti sono il burro 1 euro e 99 Buonissimi Dolcetti di marzapane A 1 euro e 49 Torrone friabile Con mandorle tostate 1 euro e 89 Sai quando Qualcuno dice Questa cosa mi puzza Per dire C'è qualcosa che non va Io una volta dicevo sempre Puzza di mandorle tostate Perché Non sono normali Il modo più dolce Per aspettare il Natale Calendario dell'avvento 0,99 E 1 euro Si mi ricordava Perché è 1 euro Ma C'è solo cioccolata dentro Cioccolatini Per i bambini Fa bene Ma Io volevo i regalini dentro Fa pure Natale Al cioccolato al latte Sarà 1 euro e 99 Paroline di cioccolato Con crema al latte Sarà 1 euro e 99 Monete di cioccolato al latte Sarà 1 euro e 99 Figure nataliste di cioccolato Ti piacciono quando dico cioccolato 1 euro e 99 Dolcetti Dominos Con doppio ripino E copertura di cioccolato fondente 1 euro e 49 Pan speziato Ricoperto con cioccolato Con miele e nocciole 1 euro e 99 Fa voglia Ma io non so se mi piace il pan speziato Pan di zenzero Al miele con mandorle 1 euro e 99 Creme Speculous Spettaculare Spettaculare Ecco Allora io questo L'ho letto Gli ingredienti È praticamente La crema di biscotto Fatta con biscotti Tritati Praticamente È Burro E zucchero puro Deve essere buonissima Ma penso che Con un cucchiaio Sei molto Classica Con pezzetti di biscotti Speziati Quindi ci sono Classica con i biscotti Oppure con la spezzione A una montana Penso che se Una volta nella vita La proverò Ma non è ancora Questo è il momento Sì perché Non voglio morire Allora Gelato Alpilis Eh lo voglio Costa tantissimo Ma lo voglio Quindi Non lo comprerò Perché costa tantissimo Però fa voglia Diciamo Ecco Moucherie Sono i cioccolatini Che fanno più schifo Di tutti A mio avviso Poi Ognuno ha i propri punti di vista Ma a me non piacciono Proprio penso che siano quelli meno venduti Credo eh Però non sono sicura Però tutte le persone Comunque parlo Mi dicono che non mi piacciono 3,29 euro Poi Il mio gran ragù Ha 1,79 euro L'emiliane Ha 1,39 euro La tovaglia Festiva Rotolo Ha 1,99 euro E una tovaglia Festiva Ha 1,99 euro Questo non ci interessa Infatti andiamo avanti È abbastanza veloce Poi c'è il calendario Dell'avvento Della Kinder Che costa 8,89 euro Ma immagino che non ci siano Sono semplici cioccolatini All'interno Cioè ci sono quelli Della Kinder Ma Io mi immagino Però non ne sono certa È un viaggio mentale mio Che ci siano Varie tipologie Di cioccolatini Kinder All'interno Però potrei sbagliarmi Poi con le Con le avrei fatto io Kinder Poi non so Collection Questi sono sempre Ben accetti Che sono I prodotti Ferrero Ferrero Rocher Di vari tipi Raffaello Che è la vita La 4,99 Poi abbiamo La Coca Cola Dei vari vini Che non andrò neanche a vedere Delle grappe Alle erbe Non ci interessano Sì vabbè Questo mi fa voglia Guarda Stinco di suino A me piace tantissimo Lo stinco Te lo giuro Qua sono Così Abbastanza Diciamo Che si trovano sempre In offerta Non ci interessano Noi vogliamo Le cose proprio C'è l'ultra dolce Shampoo In offerta Me lo devo prendere Quindi me lo prendo sempre In offerta Quello è la Camomilla Quello al cocco Non c'è Al Lidl Quindi niente Al trance di salmone In offerta Che voglia Nata in arrivo Scatena la creatività Set Cartucce Per Pistola Accanto Pasta Modellata Modellare Slime luminosi Slime luminosi Cioè Che vuol dire Si luminano Al buio Hanno dei colori luminosi Set Pericolage Perforare Imprimere O tagliare Queste mi piace Oh Qua hanno tre Pelle cose Cartopazze Per le cartopazze Vernice spray Per decorazioni Set Pericolage Con glitter Uno degli adesivi Biglietti Adesivi Pericolage Belli Adesivi Natalisti Correte a comprarli Blocco Da disegno Carta Colorata Pastelli Gel Colla Pericolage Glitterata Anche vedo Pinnarelli Per decorare Belli Questi Argento E dorato Io lo prenderei Questo cos'è? Robo da cucino Che cos'è? La tavola delle feste Che bello Già Possiamo Guardare queste cose Che mi scaldano Il cuore Mi piace troppo Organizzare cose Quindi Io penso Che anche quest'anno Dovrò fare Da mangiare Io a Natale Per Mia nonna Mio papà Mia sorella E Chi altro Io Non so Gli altri anni Ho fatto io Quindi Mi piace anche Pensare come decorare La tovaglia Mi piace molto Organizzare le cose Ma è una cosa Che mi piace fare E proprio Mi rilassa Dimensioni Ci sono sia tonde Che belle Nere Rosse Guarda che belle Come sono eleganti Sì Molto elegante Mi piace Rosso e nero Non avrei mai Abbinato Come colore Natalizio E invece Guarda che è Molto elegante Magari con mia nonna No poverina Meglio fare cose Più Giuse Anche se è elegante Nero Non è un colore Però i nonni Non sono abituati Ci sono anche Di bicchieri Poi ci sono Dei Centrotavola O set Tovagliette Con Sottobicchiere Ma noi Non usiamo I sottobicchiere Non siamo Abituati Non è Una nostra tradizione Poi ci sono I servizi Di piatti Le alzatine Queste per i dolci Molto carine Ma non le uso Perché mangieremo Il pandoro Come da tradizione La reclette La reclette Come si dice Che bella Questa cosa Che non stai vedendo Questa qua Questa qua Non lo so Mi piace Non so cosa L'ho visto In un video Tanto 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 Tempo fa E ho mangiato Del formaggio Ma fa molta voglia Tutto questo cibo Sarà che fame Ok Poi qua ci sono Le piante Mangime per uccelli Per l'inverno Per l'inverno Per l'inverno È vero Per gli uccellini Inverno Poi c'è Sono queste piante qua Rosa di Natale Che belle Dovendici Dovendici 7 novembre E qua c'è Il super weekend E abbiamo Vabbè Ma tanto Queste Saranno Già Scadute Queste Verde Vabbè Insomma C'è già Qualcosino Ma Secondo me Arriverà Altra roba Di Natale Secondo me Tu cosa Dici Aspetti Qualcosa In particolare Io No Però Secondo me Arriveranno Altre idee Di Tenergali Sì Comunque Spero Che questo Video Ti sia Stato Utile Ti Ti Soprattutto Fatto Rilassare Fammelo Sapere Con un Mi piace Con un Commentino Se ancora Sei sveglia Se no Fa niente Riposa Dormi Creatura Buonanotte 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 Ciao Creatura Buonanotte Ciao Creatura Buonanotte